Cinque abitudini che ti fanno perdere i neuroni. Sono Filippo Ongaro, se ti interessano i temi della salute, dell'aumento della prestazione, del coaching, della crescita personale, iscriviti al canale adesso e clicca sulla fantastica campanellina così sarai sempre aggiornato. Tanti potrebbero pensare che le cose più preziose che abbiamo sono la famiglia, sono la casa, sono magari anche oggetti più materiali, le macchine eccetera eccetera, ma la cosa più preziosa che abbiamo sono in realtà i nostri neuroni, perché senza quei neuroni tutto il resto non riesci proprio nemmeno a godertelo e purtroppo basta guardare l'effetto devastante che hanno le patologie neurodegenerative sulla vita di chi le sviluppa e sulla vita dei familiari per comprendere che cosa sto dicendo. Proteggere i propri neuroni dovrebbe essere una nostra priorità e non dovremmo parlare semplicemente della salute del cuore, della prevenzione tumorale, tutte cose assolutamente fondamentali, ma dovremmo anche includere sempre un pensiero su cosa sto facendo per proteggere i miei neuroni. E purtroppo non è che stiamo facendo tanto, anzi se teniamo presente lo stile di vita occidentale possiamo ben dire che tantissimi dei fattori che lo caratterizzano sono negativi per la salute in generale, quindi sicuramente anche per la salute del cuore, per il rischio tumorale, ma sono anche estremamente negativi per la salute del cervello, ossia per la salute dei neuroni, anche perché c'è da dire che il cervello è un organo tanto complesso quanto delicato e dunque contrariamente a quello che si può pensare non è un organo come posso dire distaccato e lontano dalle scelte che tu fai in termini di stile di vita tutti i giorni, al contrario il cervello subisce in maniera pesante l'effetto delle scelte che tu fai in termini di stile di vita. E quali possono essere cinque fattori che contribuiscono letteralmente a distruggere i tuoi neuroni? Beh, allora sicuramente il fumo. Il fumo è un fattore deleterio per ogni aspetto della nostra salute, lo sappiamo in termini di patologie cardiocircolatorie, lo sappiamo molto bene in termini di patologie oncologiche, non soltanto del polmone ma anche di altri organi, ma è anche una tossina che distrugge i nostri neuroni. Punto numero due, bere troppo alcol, anche l'alcol per quanto socialmente accettato e da un certo punto di vista sicuramente piacevole nelle occasioni sociali, bere il buon bicchiere di vino, nessuno vuole demonizzare questo, però purtroppo anche l'alcol è una tossina che danneggia la nostra salute, danneggia la salute del fegato, ma danneggia anche la salute del nostro cervello e dei neuroni. Punto numero tre, mangiare male, mangiare troppo. In particolare tutta questa presenza massiccia di alimenti super raffinati, ipercalorici che caratterizza la dieta di molti medici nei paesi occidentali fanno male al nostro metabolismo, creano degli sbalzi di glicemia, un'iperproduzione di insulina, aumentano, tendono a fare aumentare la pressione e tutto questo ha un effetto negativo anche sul cervello. Punto numero quattro, la sedentarietà. Anche qui si potrebbe fare un elenco molto lungo degli effetti nefasti sulla salute di una stile di vita sedentario, ma possiamo semplicemente dire per stare concentrati sul problema dei neuroni che l'attività fisica è fondamentale per la produzione di fattori trofici che riparano i neuroni, l'NGF per esempio, il BDNF, sono tutti fattori di crescita che l'attività fisica contribuisce a produrre e che hanno un effetto protettivo sui neuroni. Nel momento in cui queste sostanze vengono prodotte in quantità molto ridotte viene meno ovviamente un fattore protettivo. E poi quinto punto, le droghe. Le droghe che ahimè sono di nuovo in forte aumento in termini di utilizzo anche tra i giovanissimi sono un modo fantastico per bruciarsi il cervello. E dunque riflettiamo su quanto bisogno abbiamo di andare in cerca di un piacere immediato a discapito della nostra salute e del piacere a lungo termine, perché più o meno tutto quello che possiamo ottenere magari in un istante con una droga sintetica, un pochino troppo di alcol, lo possiamo ottenere dall'interno imparando a sfruttare a pieno la gestione delle nostre emozioni, per esempio imparando delle tecniche come la meditazione, senza dover ricorrere a queste sostanze esterne che sono ovviamente una grande illusione, sono una grande bugia, perché per quell'istante di pseudo benessere che generano creano dei disastri a lungo termine. e la vita di tutti noi ci espone già a tantissimi rischi e a tantissimi danni. Perché aggiungerne altri?